puntese gomme dal 1997 si prende cura della tua auto e per farlo al meglio si serve della più moderna tecnologia partner maestro michelin offre ai suoi clienti un'assistenza completa e di qualità dalla scelta degli pneumatici più adatti al loro montaggio convergenza equilibratura rivendita e da oggi anche meccanica puntese gomme in via della regione 102 104 a san giovanni la punta e la risposta che cerchi a tutti i tuoi problemi ben ritrovati amici stellari iniziamo con il segno della diete non è il caso di prendersela più di tanto qualcuno oggi metterà zizzania tra voi e il partner fate finta di niente per la prossima volta evitate di confidarvi con chi non conoscete bene che potrebbe avere un particolare interesse per voi toro siete rinomati per il vostro fiuto negli affari oggi sarà notevole concluderete un opulento contratto l'introito che arriverà sarà ultra che soddisfacente gemelli una novità piacevole un cambiamento repentino un momento magari particolare un momentaneo trasferimento un nuovo ruolo da ricoprire cambierete città abitudini amicizie sarà un ottimo investimento per il vostro futuro professionale ritornerete a casa vincitori vi sarà chiesto solo un po di sacrificio cancro un ricordo di infanzia riaffiorerà la vostra sicuramente quando solitamente vi soffermate a pensare a qualcosa che appartiene a un passato remoto e che tra l'altro vi riempie di gioia vuol dire che siete più sereni e sentite il bisogno di allegria divertimento e spensieratezza e allora stasera organizzatevi niente di stravolgente una cena tra vecchi compagni di brigata darà ottimismo e vi rinfrancherà leone oggi vi sentirete demotivati forse un piccolo problema di salute vi metterà in uno stato di debolezza creerete intorno a voi un'atmosfera pesante il vostro fare brillante trascinante ebbene sarà offuscato da un umore buio e maldisposto non potete fare così fino a dopo domani la luna vi indispone inesorabilmente piuttosto sorridete con giovane il segno non sarà difficile in amore a breve le certezze saranno rilevanti vergine oggi sarà opportuno cambiare strategia ci sarà da lottare per ottenere da un ex coniuge o magari da un ex socio quello che vi spetta e che sembra allontanarsi sempre più più dalle vostre aspettative siate determinati e la vostra sicurezza sarà già una mezza vittoria bilancia la luna induce a viaggiare quello che accadrà durante uno spostamento sarà sorprendente e favorito dalle stelle dall'amore a un contatto professionale a una relazione affettiva profonda a progetti di coppia presi durante un trasferimento diventato occasione risolutiva di un'esigenza scorpione quando litigate spesso perdete la lucidità e questo non è un bene specie per voi che siete considerate persone serie responsabile di grande affidabilità piuttosto preparatevi un evento importante si annuncia per l'amore un periodo di piacevoli e travolgenti montagne russe sagittario piccoli e fastidiosi problemi di salute articolazioni doloranti il freddo si fa sentire solitamente dove si è più delicati a parte la cautela che dovrà essere d'obbligo finché le temperature non si alzeranno occorrerà la massima prudenza con parenti vicini e di una certa età consiglio rivolto soprattutto ai giovani del segno capricorno preparatevi il terreno come solitamente fate quando dovete concludere un affare importante pianificate tutto e non improvvisate nulla siete sempre previgenti nelle obiezioni e difficilmente non riuscite nel vostro intento questa volta vi verrà più facile del solido e così per i prossimi dieci anni nettuno nella vostra terza casa renderà dei seducenti incantatori acquario tirerete fuori una genialità incontrastata sarà difficile non accorgersi di voi sempre che vi mettiate in mostra e non teniate nascoste quelle che sono le vostre virtù e doti di natura il momento è florido siate meno timidi e apritevi al mondo pesci ancora qualche altro giorno e poi si festeggia per adesso pensate a difendervi da chi vi attacca gratuitamente ma questa volta sarà proprio chi semina di zani a pagarla personalmente qualcuno si alleherà con voi e stroncherà il vile nemico un abbraccio stellare da lucia arena l'oroscopo è stato offerto da puntese gomme via della regione 102 104 san giovanni la punta